Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su simulatore di lattaio ubriaco. Innanzitutto scegliamo una schina ma oh mio dio quanto costano. Ok come potete vedere ho la dolce camminata di un elefante sotto effetto di funghetti bislacchi. Wow una pistola. Spariamo come fanno i latri delinquenti. Muori sotto specie di valli riparato. Ok adesso devo semplicemente fare un salto e sorpassare quest'ostacolo e forse ci vorrà un po'. Ah finalmente abbiamo sorpassato sto muretto odioso. Ovviamente non ci ho appena messo 12 minuti. Ok. Il prossimo livello è una semplice strada. Facilissimo. Ok forse dovremmo fare attenzione a guardare la strada. Ma è normale che ci sto mettendo di più ad attraversare una strada che a distruggere robot omicidi. E volevi? Mamma mia me la sono vista brutta qua. Bene abbiamo imparato che i semafori servono a qualcosa e non sono delle luci decorativa. Ma da dove sei uscito sotto specie di ragno orribile esplosivo? Beviamo del latte e rigeneriamoci. Wow. Ma perché dobbiamo camminare sui tetti? Che cosa abbiamo che non dà? Siamo dei malati mentali? Oh ancora tu? Muori o no? Basta. Mamma mia questo video si potrebbe riassumere in io che vengo investito, io che salto in aria, io che mi butto giù da un palazzo come un rimbambito. Aspetta ma perché ho questa roba ai piedi vai via oh ti sparo. Che bello, io adoro sparare. Piu 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 piu, a che barba. Cado sempre. Ah ma dovrei fare questo percorso? Vabbè troppo tardi. Il creatore di chiesto gioco pensa che io possa fare questo percorso? Ah no. Number ooooooo! Piu 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 piu. 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 Beh, che direbbi? Il video può finire qua. Arrivederci.